Allora, racconto ciò che è successo ieri fuori da Montecitorio, subito dopo l'elezione di Napolitano, una chicca. È passato Gasparri e ha fatto un gesto col dito medio. E l'ha fatto verso la folla. La folla si è un po' arrabbiata e c'è stato un momento un pochino di irrequieto, però poi noi abbiamo fatto rientrare gli animi perché abbiamo spiegato che ovviamente era soltanto un gesto provocatorio e che voleva solo avere una reazione violenta tra virgolette, che comunque non c'è stata. Quindi è stato soltanto un gesto di maleducazione e di non rispettoso verso chi era lì da le tre di pomeriggio.